Sfilano ora i contradaioli della Dugana, i figuranti si dirigono in piazza per disputarsi il palio protetti da San Bartolomeo. Guardato il suono della campanella direi. Si confermerà davanti la poppa. Ed ecco la poppa, seppure sembra un po' in difficoltà, arriverà. Sulla linea d'arrivo, ora, è ancora la poppa. La quattordicesima edizione del palio degli zoccoli è stata vinta dalla contrada poppa.